Avete mai fatto uno zabaione come Dio comanda? Vi do quello ronzoniano. 80 grammi di tuorli d'uovo, li mettete in una bowl con 60 grammi di zucchero bianco, iniziate a stemperarli, a montarli leggermente, aggiungete poi 60 grammi di marsala e 20 grammi di rum, sì io metto anche il rum, stemperate e andate a bagnomaria, non deve toccare l'acqua eh mi raccomando, e continuate a sbattere, vedete che pian piano la consistenza diventa sempre più cremosa e spumosa, io sono a 62 gradi, devo arrivare almeno a 80 gradi, quello pastorizzerà e vi renderà uno zabaione clamoroso, guardate la lucentezza, immaginate anche il profumo, ottimo da servire in coppetta con dei savoiardi, dei biscotti, ciò che desiderate, direi facile, veloce e un'istituzione, buon appetito!